Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati, io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima metà di luglio 2023. Amici del cancro, ok, imperatore e sole, wow, tanto potere personale, terzo chakra, assolutamente. Quando c'è la carta dell'imperatore si parla di stabilità, si parla di qualcosa che è stato costruito nel tempo, di un certo tipo di posizione anche sociale, non solo diciamo economica. E la carta del sole potrebbe parlare di un'espansione di questa vostra situazione, quindi magari è un momento in cui il lavoro o le questioni pratiche economiche si espanderanno, oppure potrebbe anche parlare di qualche nuova amicizia. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi, io intanto, come dico sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. E per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto in descrizione. Trovate anche la mia mail e altri link a video che potrebbero essere interessanti. Andiamo a vedere con che tarocchi. Wow, due di coppe. Cominciamo bene, amici del cancro. Con il due di coppe si parla di un accordo, di un incontro. Se per voi risuonasse, per esempio, come una lettura magari più romantica, potrebbe essere un fidanzamento o un inizio di una relazione a due. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio anche con i minitaroti. Proseguiamo poi con una regina di coppe. Un asso di denari. Un quattro di coppe. Un asso di coppe al contrario. Cavaliere di bastoni. Interessante perché avete due assi. E la sacerdotessa al contrario. Guardate ragazzi, devo dire che nella prima parte di luglio c'è questo nuovo compromesso, c'è questo nuovo incontro, questo nuovo accordo. Abbiamo poi anche la regina di coppe e l'asso di denari. Ho come l'idea che qui ci sia questa relazione che può essere rappresentata dal sole, che normalmente parla di una relazione pulita, genuina, pura, cristallina. Però con questa regina di coppe e l'asso di denari ho un po' come la sensazione che sia tutto tanto emotivo e poco concreto. Abbiamo poi anche questo quattro di coppe. È come se non riusciste a vedere qualche cosa, non vi rendiate conto di qualche cosa. Poi terminiamo appunto con l'asso di coppe al contrario, il cavaliere di bastoni, la sacerdotessa al contrario, ma le andiamo a vedere direttamente dopo. Adesso ripartiamo dal 2 di coppe e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Fante di spade e re di coppa al contrario. Allora qui può far riferimento al fatto che è un'unione nuova, di conseguenza non è... come vi posso dire... ben... fusa, come vi posso spiegare. Perché con queste carte ho la sensazione che qui ci sia l'idea della relazione, del compromesso, dell'accordo, però in realtà il sentimento, l'emozione in sé non si è ancora molto sviluppato. È come se sì, ho l'idea, però in realtà la relazione è giovane, il compromesso è giovane e quindi... È come se non ci fosse affiatamento era la parola, ecco non mi veniva da dire. Andiamo a vedere la regina di coppe. regina di denari e tre di coppe. Allora, la regina di coppe potreste essere voi o appunto potrebbe essere un'energia? qui ho come la sensazione che a livello concreto manchi l'accordo, perché vi ripeto, a livello di idea c'è, ma a livello concreto in realtà ho come la sensazione che non ci sia proprio questa collaborazione, questa fusione, questo... praticamente entrambe fare, adoperarsi, sforzarsi per questo progetto, questo accordo, se è un accordo lavorativo, per questa relazione, è come se qui facesse tutto uno. E chissà perché, penso che siate voi, perché comunque c'è anche questa regina di pentacoli, al contrario. Andiamo a vedere l'asso di denari. Abbiamo un cavaliere di denari, un sette di denari, un cinque di coppe e un otto di spade al contrario. Sì ragazzi, interessante perché qui abbiamo tutti i pentacoli. come se le cose andassero avanti veramente diciamo con un passo di lumaca, anche il sette di pentacoli, una carta di attesa. Vi dico, è come se mancasse una sorta di collaborazione comune. Qui sento che le faccende, quello che riguarda le questioni pratiche, è a carico solo di una persona. Ripeto, può essere una collaborazione in famiglia, un accordo tra collaboratori, piuttosto che un accordo romantico, un inizio romantico, ok? Una coppia romantica. Ognuno di voi lo applichi alla propria realtà, però qui è come se ci fosse, se foste in modalità attesa e molti stanno aspettando che sia l'altra persona a fare una mossa, perché vi state rendendo conto che siete sempre voi ad andare verso l'altro. Però, oddio, diciamo che avendo anche quest'otto di spada al contrario, cercate di essere obiettivi su chi va, chi viene e di chi è la responsabilità. Perché magari voi vi sentite che dovete fare tanto rispetto a quello che fa l'altro, però magari non sapete neanche tutto quello che fa l'altro, ipotesi, se fosse una collaborazione di lavoro. Quindi molto dipende anche dal vostro modo di percepire, captare e filtrare la situazione. Cercate di essere più obiettivi possibili. Possibile. Andiamo a vedere questo 4 di coppe. Asso di denari e la luna. Eh, questo asso di denari... Come se mancasse... Si è girata anche questa, la forza. E come se mancasse questa... questo input. E avendo anche la luna è come se molte persone avessero paura di non farcela. Vi dico questo perché c'è la forza. La forza... È un po' come se non vi rendiate conto del coraggio e della forza di volontà che voi avete. Avete paura di non averla, però in realtà ce l'avete. C'è già. È presente. Si tratta appunto di fecondare il seme. Andiamo a vedere la su di coppa al contrario. 5 di spade. Che interessante. Pappa al contrario, diavolo. Ragazzi, qui ho la sensazione che questo inizio, voi vorreste questo inizio concreto, questa partecipazione concreta, ma qui c'è ancora tanta confusione mentale, tanto ego, potrebbero esserci degli illeciti se fosse una questione di lavoro, magari questo accordo non viene regolarizzato subito. Probabilmente questo asso di pentacoli fa riferimento proprio al concretizzare con qualche foglio, con qualche firma questo accordo, però questa cosa non viene perché il Papa comunque è il contrario. Ci sono dei conflitti o ci sono dei problemi intorno a questo progetto o ci sono dei problemi intorno alle intenzioni che ha l'altra persona. Andiamo a vedere il Cavaliere di Bastoni. Abbiamo la regina di Bastoni, un 4 di spade e il 10 di spade. Come se vi dicessero di muovervi. per qualcuno magari ha senso mi dicono di raccontare quanto state male, di renderlo, cioè di portarlo alla luce, di farlo sapere agli altri fondamentalmente. Però ragazzi è un po' come se vi dicessero di muovervi da questa situazione, da questo accordo, perché avendo anche, adesso lo andiamo a vedere, però avendo la certa testa al contrario è come se non vedeste qualcosa, ma qui effettivamente avevamo anche un quadro di coppe. E' come se qui ci fosse l'idea ma non la concretezza in questa relazione. Ed effettivamente poi non la vedo neanche qui. Cioè abbiamo la carta del sole, è vero che parla di espansione ma è anche vero che parla di amicizia. Ok? Quindi se qui per esempio c'è un legame di amicizia che sta diventando più profondo ma magari qualcuno vorrebbe diventasse una relazione romantica, qui sento che è su questo piano che resta, ok? È un'amicizia. È un po' come se mancasse la chiarezza mentale. Andiamo a vedere come la sacerdotessa. Sette di spade al contrario, ragazzi. E sei. Uuuuh. E sei di coppe. No, sentite un attimo. Allora. La sacerdotessa fondamentalmente non state vedendo qualche cosa. È un po' come se avessi bisogno di ripulire l'idea romantica che avete di accordo, di relazione. Può anche essere una relazione lavorativa. In questo caso specifico parla di amore platonico. E qui arriviamo di nuovo alla carta del sole agli amici. Come se venisse a galla qualche cosa in questo periodo inerente a quello che dice questo quattro di coppe voi non state vedendo qualche cosa ma alla fine del periodo diciamo verso metà luglio secondo me vi renderete conto di che cos'è che viene a galla. Può anche essere che vi accorgiate di questo diavolo di che cos'è che costringe di che cos'è che... Vi dirò che ci potrebbe anche essere un po' di manipolazione con queste due carte perché giustamente voi siete in questa fase di otto di spade al contrario avete ancora la benda sugli occhi e di fatti lo dice anche il quattro di coppe che è un po' la carta della cecità no? È un po' come se vi dicano resta sulla tua posizione sulla posizione che hai guadagnato perché è una posizione forte e fai chiarezza mentale è un altro dei significati della carta del sole in effetti il sole c'è di giorno quindi rischiara quello che è la vita ed è associato anche alla chiarezza mentale cancro andiamo a vedere ancora un oracolo carta numero 3 allora parla di diciamo un nuovo un nuovo basso un nuovo momento di immersione mi verrebbe da dire in voi stessi un momento di profondità ma anche un momento di vibrazioni un po' pesanti ma infatti qui ragazzi avete il diavolo avete il 5 di spade ma avete anche il 4 di spade che è una carta che parla di guarigione come guarita e portando alla luce portando a galla portando al pubblico anche per qualcuno magari si suona ma io lo sento proprio così è come se ci fosse un problema da portare nella società oppure se per esempio fosse una questione lavorativa bisogna affrontare i problemi e comunicare quali sono i punti deboli di un progetto amici del cancro io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie future se sì fatemelo sapere con un like con un commento con una condivisione se avete piacere di supportare il canale potete lasciare una donazione o abbonarvi gli abbonamenti sono di due tipi c'è la fascia più bassa diciamo è per semplicemente sostenere il canale mentre la fascia più alta vi dà l'accesso ai video esclusivi di crescita personale io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao